Ciao a tutti ragazzi e bentornati su filo connesso. Allora ragazzi questo sarà un video veramente breve, spero di non arrivare a 10 minuti, ma volevo per prima informarvi che tra una mezz'ora e 40 minuti dovrebbero uscire sette interviste, non dovrebbero, devono uscire sette interviste fatte a Maker Faire e per l'appunto dirvi perché non è uscita una review di Maker Faire, voi lo sapete, quando sono tornato da Maker Faire comunque sia il risultato positivo al covid, però poi altri impedimenti ci hanno ovviamente impedito di vederci con Valerio e registrare questa review, quindi sostanzialmente non esce una review, ma con questo video voglio comunque sia ringraziare in primis tutte le persone che ci hanno fermato e ci hanno detto ehi seguiamo i vostri contenuti, che è una cosa che io non mi aspettavo per niente e soprattutto lì in mezzo alla folla che la gente ti riconosca, sì che c'hai la patacca a filo connesso, però quel, diciamo così, farsi avanti e dire seguo i vostri contenuti vuol dire che per voi comunque sia sta roba è un pelino importante o comunque sia un pelino interessante e quindi grazie ragazzi, tra l'altro io mi devo scusare con molti di voi perché io non riesco a, cioè non sono abituato in realtà, tanto vale anche per Valerio, non siamo abituati a questa, diciamo così, idea che le persone ci fermano e ci dicono ciao, cioè è una roba che per noi non ci stavamo nemmeno pensando perché siamo partiti per fare, diciamo così, dei video per filo connesso perché poi tra l'altro ne abbiamo fatti tantissime di riprese e sono andate ovviamente tutte perse perché non le abbiamo inserite in nessun video, però sono rimaste le interviste, quelle le abbiamo montate e le rendiamo disponibili perché è giusto che siano disponibili. Diciamo così, questa cosa che le persone ci fermano comunque sia non è una roba di tutti i giorni e non è una roba appunto al quale siamo sostanzialmente abituati a ricevere, quindi comunque scusateci se siamo rimasti tipo un po' tipo una mummia, tipo queste cose così, però purtroppo vuoi il casino, vuoi perché comunque uno non se lo aspetta e ovviamente delle volte abbiamo fatto scena mute, abbiamo stretto la mano, eh ciao però non siamo riusciti nemmeno ad attaccare un discorso, quindi scusateci. Tra i tanti che ci hanno salutato io voglio comunque ringraziare iFaber perché si è presentato ma io già lo conoscevo e tra l'altro ha partecipato all'Arduino Day di due anni fa al nostro evento live dell'Arduino Day e sostanzialmente quando ho detto eh sono iFaber in realtà già l'avevo conosciuto, l'avevo riconosciuto però ecco il discorso di aver comunque sia trovato persone che sostanzialmente di solito, di solo a distanza fossero nei commenti è una roba veramente bella. Quindi ragazzi grazie infinite, l'anno prossimo se tutto va bene avremo uno stand. Quindi ci sarà tutto il tempo per mettersi lì, chiacchierare, fare cose assieme, quindi ragazzi aspettate un attimo che facciamo tipo il devasto. Voglio ringraziare tutti coloro che ovviamente conoscevamo e ci siamo incontrati effettivamente a Maker Fade che non è in ordine di importanza ragazzi, sto andando un po' a braccio quindi scusatemi se dico cose prima e cose dopo però sostanzialmente c'è appunto tutto il gruppo di Pizza Robotics mi va a far vedere la maglietta che mi hanno dato, tra l'altro ringrazio pure Settore Zero, Gianni Bernardo che ci ha regalato in realtà me l'ha regalata lui la maglietta di Pizza Robotics e quindi sostanzialmente poi c'era anche il portachiave Settore Zero c'era una PCB per creare, credo, d'aver capito, poi non c'ho i componenti li devo recuperare comunque sia per creare un piatto girevole per la registrazione di video di piccoli oggetti quindi poi me lo monto e magari stampo anche i pezzi che servono e magari ve lo faccio vedere in video quindi un caloroso grazie a Gianni Bernardo e ovviamente a Giovanni Bruno, ad Alessio Morale, a Raffaello Buonghi quindi comunque sia grazie ragazzi che poi a un certo punto il vostro stand è diventato filo connesso like non so com'è successo però comunque sia a un certo punto vi siete presentati tutti con le magliette in realtà le magliette le ho portate io, non è che sono apparse le magliette da nulla però le ho portate io e non pensavo che se le mettessero tutti allo stesso tempo invece praticamente è successo che lo stand di Pizza Robotics era diventato quasi lo stand di filo connesso tra l'altro voglio ringraziare tantissimo 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 Paolo Arriverti che nonostante non siamo riusciti a beccarci ci sono state delle concomitanze di mezzo e non abbiamo praticamente avuto modo di incontrarci in modo tranquillo metterci lì a chiacchierare, fare due chiacchiere e quindi niente comunque grazie Paolo per l'appoggio che ci dai perché ho visto che comunque sia in un tuo video hai parlato di noi quindi grazie Paolo di nuovo grazie 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 io sostanzialmente noi siamo un canaletto piccolissimo non avanziamo nessuna pretesa sul cresce non avanziamo poi facciamo le cose come cacchio ci pare non seguiamo tanto la massa non facciamo tante cose, non facciamo tanti tutorial tra l'altro e nonostante questo vedo che il canale piano piano cresce quindi grazie infinite a tutti coloro che credono in questo progetto che è un po' strano, un po' anacronistico rispetto al panorama dei maker su YouTube perché ovviamente non facciamo roba che si vede in giro ecco quello è il discorso tra l'altro puntiamo a fare cose nostre tipo librerie pubblicizzare roba che creiamo noi quindi praticamente ci sta proprio un discorso di cioè facciamo un po' di roba strana praticamente e poi appunto collegandomi sempre a Paola Diverti anche se effettivamente tecnicamente non c'entra niente però c'è pure Piera Isa Piera Isa che non siamo riusciti a incontrarlo perché noi siamo andati di sabato Piera Isa era lì di domenica quindi giorno dopo però sostanzialmente mi va di ringraziarlo ringraziarlo perché anche lui ha preso la maglietta l'ha mostrata in una delle sue ultime live grazie per pure a te e quindi niente grazie, grazie e infine ma sempre non in ordine di importanza Greta Galli grazie Greta tra l'altro cioè è una roba che è nata così stavamo facendo delle magliette per i nostri amici e ha detto boh visto che comunque sia ci eravamo già sentiti una volta mi sembra in un commento e roba varie ho detto vabbè faccio pure a Greta una maglietta gli ho chiesto vabbè che colore voleva abbiamo fatto queste magliette ragazzi ma non che poi io l'ho ripetuto 25.000 volte a loro non era intenzione mia che loro facessero vedere appunto le magliette in video perché non mi interessava niente però appunto anche lei poi fece una storia con la mia maglietta quindi comunque ci sta che comunque vale la pena comunque ringraziarli a prescindere dal loro sforzo nel comunicare il verbo di filo connesso però comunque sia ci sta quindi grazie a tutti grazie a tutti e grazie appunto alla community di filo connesso perché comunque sia siamo stati assieme a dei ragazzi quindi assieme ad alcuni di voi con Fabrizio, Gigi, Luca e c'era anche Valentina e vabbè stavamo io e Valerio quindi comunque grazie ai ragazzi che avete deciso di passare questa giornata assieme a noi c'erano anche altri che purtroppo non sono potuti venire però il prossimo anno penso che saremo ci sarà la possibilità di stare più assieme perché stando lì tre giorni comunque magari qualcuno si organizzerà un giorno qualcuno si organizzerà in un altro giorno e comunque sia riusciremo a beccarci tutti assieme detto questo chiudo il video e vi lascio le interviste vi lascio le interviste che inizieranno a uscire tra un 30-40 minuti grazie infinite e ci vediamo al prossimo video sempre qui sul filo connesso ciao